Volgetto gli occhi al cielo, vidi un giardino di mille qualità, c'erano i fiori, l'odore si sentiva di lontano, e specialmente odore di gelsoni. Allora, caro Oscar, questo si chiama Villaggio Firenze, è stata un'idea che ho avuto nel 99 quando ho visto questo terreno e sapevo che lo stile italiano stava andando veramente di moda e allora ho progettato questo villaggio su uno stile di casa toscana. L'idea di base è stata quella di costruire case autentiche toscane, e poi sono andato a Firenze e sono riuscito a cominciare una delle imprese di costruzione più importanti di Firenze, l'ingegnere Tognozzi, comandata e presenuta da Emilio Petrilli, il quale ha creduto in questo progetto e mi ha dato la possibilità di partire. E poi ha assunto per la progettazione finale l'architetto Spadolini, che insieme a un architetto locale abbiamo finito di destinare e di costruire e di apportare questo tipo di casa, che ha avuto un grandissimo successo perché ha avuto riscontri anche dei media che sono interessati a questo progetto, perché lo stile è veramente originale toscano, è basato su tre modelli, che si chiama Brunelleschi Merice Giotto, si va da circa 450 metri quadri abitativo fino a circa 650, e tutte hanno uno stile toscano con il bel vedere, sono di dimensioni differenti, con una struttura interna differente, ma fondamentalmente hanno lo stesso cliché, lo stesso stile, anche i colori esterni sono stati studiati per dare una caratteristica toscana. Etio così io ho sentito a dire, Betio definitive, Iscrivito�ito, Iscrivito, rulando, No, 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 Sì bene ti voglio faresti un folito in mezzo al mare, faresti le giragnole di foglio, l'acqua dei fiumi faresti fermare.